Prego, salve, salve dottoressa, mi dica, non posso, mi scusi la mia, ecco, stia tranquillo, stia tranquillo, non si preoccupi, mi espongo al suo problema, mi dica, è questo un problema, dottoressa, io ti ho un problema grave, e quale sarebbe il successo? No, il problema mio è difficile, ma ci sono tanti problemi gravi, ma si risolvono, no, no, la medicina è andata avanti, mi dica, mi dica, dottoressa, tu hai rito, ma ho diagnosticato un problema alla crostata, alla prostata? Eh, vabbè, sì, è d'argo, quindi ha problemi? Eh no, ma non dico, se ho io buco un po', tocca a me, amputare, 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 tutte vanno su su, ma tutti i dottoressa, tutta la provincia del Cielo, poi oltre, a Bari, poi è successo dall'Arcita, poi in America, poi tutti, tutti amputare, tutti i dottori, no, ma non esiste al mondo, dottoressa, dottoressa, dimmi amputare, vuoi dire, e bambi su, a male, ma no, ma no, ma cosa sono questi metodi medievali? Ormai non esiste più per queste patologie l'amputazione, ma sì, ce l'ho io una terapia per lei, molto tranquilla, molto seria, dottoressa, ma ci sta a dire, ma non ci sta a dire, non muoio dottoressa, ci penso io, mi ascolti, lei deve fare così, pastiglie, una alla male e una alla sera, e vi dicate che è il suo.